Che piace anche se non corrisponde proprio a tutti i canoni della musica che serve. Della musica da ballo, della musica da ballo. E questo era un brano con cui Alexi aveva vinto il festival di Sanremo, per dire no. Ma bene, allora signori abbiamo la nostra Paola Dami per dire no, un brano di Alessia, però ricordatevi che Paola Dami è una cantante meravigliosa e quindi richiedetela a tutte le proloco, richiedetela che farete un affare, ascoltate come canta questo motivo. Anche perché prendono tanta roba a poco prezzo, guarda qua. Nell'anima, forse il colore sì, di questi occhi tuoi, che traficano in blu le incertezze e poi le illusioni che teniamo giù dentro di noi. Ma non è un cielo di nostalgia che offusca il sole in te, vulnerabile, disarmato sì e fragile. Perché, perché hai bisogno di me una volta in più, non lo ammetti mai o non lo vuoi spiegare tu. No, no, non è un gioco, è della fantasia che ti ha portato qui domenica. Per dire vai via, per dire dai resta qui, va bene così. Per dire no, per dire vai via, per dire dai resta qui. Va bene così, non è l'anima, è la poesia che dà un impulso qui nell'anima. Non è l'anima, non è l'anima, è la poesia che dà un impulso qui nell'anima. Non è l'anima, non è l'anima, è la poesia che dà un impulso qui nell'anima. Non è l'anima, non è l'anima. Grazie a tutti